Sono da Taro, perché gli attivi vicini, se vogliono abitare o da Taro in Polo della Sfera, da Paspezia, sono stati da un'altra capiglieria di Trattore, Tonino? Mi dicevi che l'accoglienza è già preparata, dove saranno alloggiati? Guarda, per correttenza, ma anche perché non vanno a un albergo a Sant'Agata o a Nerano e gli ospita Mimmo, anche perché per accelerare la loro venuta qua. La verità è che la capiglieria si è mossa veramente molto bene, in quanto si sono immediatamente preoccupati di non bloccare l'intera comunità. Si vive in pandemia, è stata interdetta in una zona, ma chiaramente tenendo con conservazione la sicurezza, tenendo con conservazione anche quello che fuori su altri svolgi. Però devo dire la verità che la capiglieria ha fatto l'impossibile attraverso anche la prefettura, hanno immediatamente, come dire, allocato questa... Se tu ti ricordi, a memoria Duomo ci sono stati dei precedenti a Marina del Tantone? Mi sembra, un attimo solo che rispondi, un attimo perché mi dicono... Grazie. Grazie.